Applausi Avvisiamo i signori viaggiatori che il treno viaggia in perfetto orario Si spera che la visita nella passata goccia sia stata di vostro gradimento e che nessuno dei passeggeri a bordo sia stato arrestato per manipolazione illecita di standard e o disturbo della fete pubblica E' con gioia adesso che la compagnia sui binari del jazz vi informa che siamo arrivati alla stazione di Moments Notice Quindi è proprio linea alla fine del nostro viaggio Moments Notice sarebbe stato un ridente standard jazz se John Coltrane non lo avesse composto in stile medium up o fast swing Ricreando nella linea fondamentale del basso quasi un'intera serie di odecafonica con accordi che cambiano così rapidamente da far impazzire Andrea Tarozzi il pianista della nostra compagnia di viaggio Purtroppo anche questa volta a ridurre lo standard nelle attuali condizioni è stato il maestro arrangiatore Silvano Vastrovatteo che dicono fonti informali stia progettando la fuga per non essere arrestato Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.